...sostenere il rilancio dell'ONU, perché il peso della riconduzione sia equamente distribuito. Trampa che però ha anche certamente l'occhio rivolto alle cose americane. Oh, non si ferma, eh? Deve passare un giroscopio. Passa la barriera. Allucinante. No, non si crede. Ma io voglio capire il pilota che cazzo ha avuto. Hai caduto? Cioè, ragazzi, veramente allucinante. Quanto stavano in telepass? Sono le 8 e 16 del mattino, siamo alla barriera di Milano e la moto va da sola. Per la tua azione. Sì, sì, ma tanto non è che va indietro. Cosa mai? Non pazzita, veramente. Dove cazzo va? La cazzo è che torna ancora qua. No, veramente. E' devastante sta cosa. Ne so, arriva di là. Devastante. No, dai, dai, che il momento che vai a... Oh, là, finalmente. Si è fermata. Boh, a posto.